C'è un'azienda italiana che viaggia per il mondo, parla portoghese in Brasile, spagnolo in Argentina, fa comunicare la gente in Turchia come a Cuba, in Cile come in Grecia e in Spagna o in Francia, lavorando ogni giorno da protagonista nel mondo delle telecomunicazioni. È meraviglioso perché se ci pensi che siamo parte di ogni cosa, siamo ogni cosa. E mentre 18 paesi si avvalgono della sua esperienza, ce n'è uno che ne trarrà sempre il beneficio più grande. Grazie